Le imprese di CNA Benessere e Sanità, centri estetici, acconciatori, tatuatori, hanno da sempre dimostrato un grandissimo senso di responsabilità nella consapevolezza che siamo in una pandemia e che il bene primario che va tutelato è la salute dei cittadini. Ora con il protrarsi della chiusura di queste attività stanno emergendo delle situazioni di forte preoccupazione sia da un punto di vista sociale che economico. Sappiamo bene che questa è una problematica che va affrontata a vari livelli, la nostra CNA nazionale è in costante contatto con il governo, con il ministro della salute, con il ministro dell'economia, ma pensiamo anche che questa problematica debba essere sottoposta a livello locale e per questo abbiamo scritto come categoria una lettera al presidente della regione Marche, Acquaroli, per sottoporre tre questioni secondo noi fondamentali. Prima di tutto chiediamo dei chiarimenti sullo stato del piano vaccinale. Sappiamo e siamo d'accordo sul fatto che ci sono delle categorie deboli che vanno vaccinate con assoluta priorità, ma chiediamo che questa vaccinazione sia il più possibile veloce e organizzata con razionalità, perché poi ci attendiamo che siano prese in considerazione le categorie produttive, quindi i nostri imprenditori e i loro dipendenti. Questo ci consentirebbe una riapertura più veloce e in assoluta sicurezza. L'altra cosa che chiediamo è che, come l'anno scorso, la regione Marche prenda l'iniziativa di concedere dei ristori alle attività che sono state costrette a chiudere. Chiaramente, come l'anno scorso, si tratterebbe di un contributo a fondo perduto che consentirebbe a queste imprese di affrontare le minime spese che comunque continuano a sostenere nonostante la chiusura. L'ultima cosa è un po' una sensibilizzazione che vogliamo proporre al Presidente Acquaroli affinché si faccia portavoce presso il Governo del fatto che le imprese del benessere hanno studiato insieme alla regione Marche dei protocolli di sicurezza che vengono assolutamente rispettati, che hanno costretto le imprese ad investire nell'acquisto di determinati dispositivi proprio per evitare al massimo che i contagi possano avvenire all'interno delle nostre imprese. Tra l'altro, facciamo questa considerazione, siamo chiusi da quasi un mese, ma i contagi non sono diminuiti. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, i contagi non avvengono all'interno delle nostre imprese perché nelle nostre imprese ci sono persone preparate che hanno fatto una formazione proprio per evitare il contagio. Quindi chiediamo al Presidente Acquaroli di prendere in considerazione questa nostra istanza anche per il bene dei cittadini, che molto spesso si recano nelle nostre attività del benessere anche per un loro equilibrio psicofisico. È quindi, secondo noi, molto importante poter riaprire per le imprese e per la cittadinanza.